Buongiorno a tutti, siamo a Mixology Experience 2024, siamo in compagnia di Jimmy, il fondatore di Bobbys. Buongiorno. Buongiorno. Senta, ci può parlare un po' della storia di questo marchio? Vuoi parlare della storia di Bobbys? Sì. Bobbys è una marca di Ginevere, una marca di gin da Schiedem, Schiedem in Holland. Schiedem è il luogo di Ginevere e, se lo sai, Ginevere è il prodotto di gin. Quindi abbiamo il gin e il Ginevere. Il Ginevere è molto importante per la storia di Hollandia. Il nostro distritto è più di 300 anni, e abbiamo creato il Ginevere per molti anni. Ma il Ginevere è un prodotto che non molti persone conoscono, perché gli americani hanno fatto molto famoso il gin. Ma è di questo motivo vogliamo emphasize che tutto il gin è venuto in base, il gin è venuto da questo. Il Ginevere è il più di più di il mondo, quindi è qualcosa che abbiamo creato per molti anni. Il nostro brand è venuto dall'Indonesia, perché la storia dell'Historia dell'Indonesia, in i tempi coloniali, e le ducche stavano trattando spezie in Indonesia. Quindi tutte le spezie che noi conosciamo, sono venute dall'Historia dell'Historia dell'Indonesia, dall'Ostrazione. E queste botaniche abbiamo usato in Bobbys per molti anni. Quindi il nostro sapore molto specifico asiano viene dalla storia dell'Historia 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 dell'Indonesia. Perfetto. Invece, in merito ai prodotti che presentate in fiera quest'anno, cosa ci vuole dire? We're presenting three products. We're presenting our gin, which is our classic and most selling product, our dry gin, which has been distributed in 50 countries all over the world. and we have in Italy for over 10 years. It was one of our first markets. So many people in Italy will know this product. We love it very much. It's very, it's our best selling product. As I said, the Geneva is a product that we have made to also explain why we have the gin and what is the heritage of gin and Geneva in the world. Because it's very important for us to explain to people that the Dutch and the Belgians invented Geneva as the first juniper spirit. So this is a Geneva also made in our own tradition. So a little malt wine, some spices, some ginger, some cardamom. So it's very interesting, not traditional Geneva, but it's something that works really well in cocktails, like in Martinez, so very classically done. I like it very much in a Negroni myself. So it's a very interesting spirit. And this one is the third spirit we have. It's the Pinang Raji. And Pinang Raji means it's Indonesian for spice blend. So basically what Indonesian people do, they gather all kinds of different spices and they use in the kitchen in their own recipe. So they call it make their own Pinang Raji. So Bobby is the grandfather of my partner and this recipe is made by him. This recipe is made by us. So this is his Pinang Raji and this is our Pinang Raji. So this is a modern interpretation. It's a bit more lemony, works better in Gimlet style drinks, in more citrusy style drinks. Perfetto. Invece, in merito appunto a questi prodotti, quali sono i feedback da parte del pubblico in questi giorni? I think the feedback has been very, very good. This is why I think for me Italy is the best country in the world, because it has the most knowledgeable bartenders in the world. So they know exactly what they're drinking, they know exactly how it's been made, they know what drink they should make with it. So for us to come to Italy is always very, very beautiful because all the bartenders are so experienced, so educated, they know exactly with what product they want, with which drink. So for me it's perfect.